Ma cos'è successo a questo pinguino? Si è versato dalla curcuma addosso oppure è uscito da un episodio di Simpsons? Il fotografo belga Yves Adams ha immortalato un esemplare di pinguino reale molto diverso dagli altri. Le ipotesi che spiegano il perché questo pinguino abbia il piumaggio di una colorazione gialla sono due, albinismo e leucismo. Il leucismo è una condizione provocata dalla totale o parziale assenza in piume e penne di Feomelanina e Deomelanina, due pigmenti appartenenti al gruppo delle melanina. Feomelanina e Deomelanina sono responsabili di colori come il grigio, il nero e il marrone, ma non sono gli unici pigmenti presenti negli uccelli. Se osservi bene però le estremità delle ali sono più scure e questo potrebbe indicare la sintesi di melanina in quella regione. Per essere sicuri di quale possa essere la causa di questa colorazione gialla bisogna fare delle analisi biochimiche e per poterlo fare bisogna prendere dei campioni dal piumaggio di questo pinguino.